Una richiesta di comodato d'uso per la struttura che dovrà ospitare la sede del distretto sanitario. Va all'attacco il nuovo direttore del distretto, Angri Scafati Grazia Gentile, che ieri ha di fatto formalizzato l'istanza di comodato d'uso del fondo Rosa Rosa, grazie ad una delibera del direttore generale già indicato dall'ente comune ma mai attuato. Il 13 febbraio, in una sua missiva, Pasquale Mauri chiedeva di conoscere le determinazioni dell'ASL in merito alla struttura. voleva chiarimenti il sindaco di Angri sul destino dell'immobile che ospita il distretto 61 Angri Scafati, dettando anche un ultimatum. Se entro 30 giorni non avesse avuto risposta, si sarebbe ripreso la struttura per farne altro uso. Ma il progetto salute di Angri era già avviato ed ora parte formalmente la delibera, la numero 213, datata 27 febbraio. Con quella delibera, il direttore generale dell'ASL di Salerno Antonio Squillante propone il comodato d'uso. La delibera prevede di sostenere con i fondi ASL i costi di adeguamento della struttura fondo Rosa Rosa, per un importo di 250.000 euro, di approvare, in attesa delle varie autorizzazioni regionali previste, lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito della struttura di Via dei Goti, Fondo Rosa Rosa del Comune di Angri, per un periodo minimo di 5 anni, in base alla normativa regionale vigente che legittima l'amministrazione comunale angresi a concedere quella struttura in comodato d'uso. Infine, di dare corso, a seguito della sottoscrizione del comodato, al procedimento per avviare i lavori di trasformazione della struttura, adeguandola alle esigenze dei servizi da erogare. Tutto questo tenuto conto del fatto che l'ASL di Salerno esplica le sue attività istituzionali sul territorio angrese in diverse strutture. In via Semetelle, in fitto, dove è situato il poliambulatorio e il dipartimento di prevenzione con il centro vaccinale. In via Fondo Badia, proprietà ASL su fondo comunale, dove è ubicata la guardia medica e con essa l'emergenza territoriale, ovvero il 118. In via Salvatore Di Giacomo, in fitto, dove è allocata la medicina legale, l'assistenza sanitaria di base, la riabilitazione, l'ufficio socio-sanitario e gli sportelli al cittadino di esenzione per patologie e reddito, oltre che la commissione invalidi civili. Ora la palla passa nuovamente al primo cittadino di Angri, che dovrà tradurre infatti la richiesta dell'ASL nell'interesse dei suoi cittadini.